Ciao, sono Giancarlo Laera e sono un allievo di Tiziano Zanotti e seguo i suoi corsi qui al Bass Lab di Bologna. Volevo spendere due parole riguardo a questo corso. Prima suonavo da parecchi anni, prima da autodidatta, poi sono andato a lezioni da un maestro, ma seguivo dei concetti teorici, tecnici, senza messi in ordine. Quindi con Tiziano, prima per curiosità, ho visto su internet, ho seguito per sei mesi il corso online di Bassista Contemporaneo volume 1 e poi dopo, appreso dalla curiosità di tutto il suo metodo molto semplice, chiaro ed efficace, ho raggiunto degli obiettivi e ho fatto un bel po' di ordine nell'idea da musicista. Quindi mi sono praticamente avuto la consapevolezza di tutti i mezzi che servono per imparare delle cose semplici, essenziali, ma soprattutto funzionali. L'ho contattato e ho detto che d'ora in poi voglio venire a scuola perché voglio approfondire in modo corretto tutte le tue cose e da lì mi si è aperto un nuovo mondo utilizzando vari strumenti, sia per la lettura, l'approccio al piano, che non sapevo suonarlo per niente, insomma, e quindi stiamo studiando armonia, stiamo studiando, insomma, tanti soffeggio cantato, ritmico, insomma, certo, con il corso online vedi una parte, ma la scuola a venire qua di persona ti apre un mondo e ti cambia proprio la forma mendis e l'approccio sullo strumento e nella musica in generale, insomma, migliori come persona soprattutto e impari tante cose e migliori l'approccio quando anche suoni con i vari contesti musicali, ecco. Grazie mille a Tiziano!